Le stelle del ring tornano in città, sarà infatti il teatro tenda di via Mendola ad ospitare la 24esima edizione del Gran Galà degli Sport da Combattimento, domenica 19 febbraio. Ogni incontro è particolare perché sono professionisti, sono gente che comunque sono da tanti anni in questo mondo di sport da combattimento e di conseguenza sono tutti di alto livello. L'evento è promosso dal team Iachini, patrocinato e sostenuto dal comune di Arezzo e dalla fondazione Arezzo in Tour, promette di catalizzare centinaia di atleti, professionisti ed amatoriali di kickboxing per una giornata all'insegna di adrenalina e spettacolo. Come sempre quando c'è le stelle del ring c'è anche il comune di Arezzo che dà la mano e il patrocinio, in questo caso è l'utilizzo gratuito per la domenica del teatro tenda. È una manifestazione importante con tutta la giornata di domenica, quindi incontri la mattina e poi incontri dei professionisti il pomeriggio con tanto pubblico che riempirà questa struttura comunale. Circa 200 gli atleti tra 6 e 40 anni provenienti da ogni parte della penisola che si confronteranno tra loro anche qualche aretino. Ne abbiamo tre della nostra zona, uno di Capolona, Corsetti e Lorenzo, abbiamo Daniel Valleverea di Monte San Savino e abbiamo Vasilovic Sebastian che è di Arezzo.